Siete un pubblico da X-Factor o da Don Matteo? Pubblico da Netflix o da Forum? C'è un po' e un po' Adesso pare che i nipoti sono a casa a giocare alla Playstation E le nonne vanno in gita Escono, vanno a ballare Una mano alla capessa Una mano alla capessa E amami, amami, prendimi, sconfiami E amami, amami, prendimi, stracciami E dopo stringimi, dammi un'impressa dei tagli Oh yeah E tirati E con le tue labbra caressami E ho capo, sono forti Il canno umano Si deve trovare la soluzione Quando sei donna, baby Nelle FIFA E con le racche da 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 Alla prossima volta, ciao!